Se non potete amare, almeno non pensate. Perché dovreste pensare? Cosa dovrei pensare di voi? Cosa posso pensare in merito a voi? Non c'è niente da pensare. Pensare ti porta in basso. Amare, questo guarirà ogni relazione. Pensare ti porterà tutto giù. Non pensate a vostro marito, non pensate ai vostri bambini, non pensate a vostra madre e padre, amateli e prendetevi cura e basta. Pensate a voi stessi, se volete pensare a qualcuno. Finché arriva il dottore, pensate a voi stessi. Dicono che c'è un peccato originale nella cristianità, no? E tutti sono nati cattivi. Sì, c'è un peccato originale. Non amare te stesso. Questo è il vostro peccato originale. È il peccato che commettete ogni giorno. È la vera cosa. Che ama se stesso, non in termini nazistici, non difendendovi, ma amandovi. Non può essere più una persona violenta, una persona con intenzioni cattive. Per amare te stesso per primo. Allora sarai innamorato della terra, con i tuoi amicini, con tua madre e tuo padre, eccetera. È così. È comprensibile? È comprensibile? Ste? È metà. Ciao. invasile con il nostro dirigente E Allora Buona